Ragazzi volevo dirvi che sto collaborando con questo sito che ci permette di vendere o comprare account modati di GTA e non solo anche di altri giochi Vi lascio il link in descrizione se siete interessati Madonna ragazzi che abbiamo combinato, che abbiamo combinato in questo video, che abbiamo combinato, vai, andate Ok eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qua alla modifica da Gangster Come avete visto nel video precedente siamo stati un po' nella piazza di spaccio qua a Grub Domenica nel ghetto, è andata bene, abbiamo fatto un sacco di soldi, un po' di guai con la polizia Però tutto sommato siamo ancora qua In questo video cosa faremo ragazzi? Questi qua mi hanno detto che i Vagos hanno aperto un negozio, una concessionaria di auto ragazzi Tutta in stile lusso, quindi ci sono da una parte le auto esclusive, dall'altra parte ci sono le auto sempre costose ma meno esclusive E quindi ho pensato di attaccarli ragazzi, perché questi qua non la smettono mai di inventare Comunque andiamo direttamente con questo, quando c'è questo c'è casino Dodge Ram TRX ragazzi, tutto giallo con queste gomme grandissime, guardate qua che figata Guarda qua ragazzi, ecco la bestia Dodge Ram, comodissimi con la gabbia di sicurezza qua dentro No andiamo là, andiamo là, già convinti, già convinti di sparare ragazzi Non so neanche che macchine ci sono, però le voglio rubare tutte, perché non è possibile Ogni tanto cacciano una novità Non ci sei per un po', loro vanno in affari e questa cosa non va bene Andiamo di qua Eccolo qua ragazzi, Dodge Ram in azione Per essere un pick up, come vedete, 4x4, è bello potente Non gli si può dire niente, quasi 300 fa Uiii, parlo scoppiettare Boh, 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 boh Ah, spostatevi Perfetto ragazzi, io mi apposto qua, giusto per farvi vedere cosa hanno creato questi Guardate là Concessionaria auto Loro sicuramente ci avranno visti Vedete? All'interno ci sono i Vagos ragazzi Quindi quello è un negozio di copertura Ovviamente vi pare che i Vagos, scemi che sono, si mettono a vendere le auto Giustamente hanno fatto un po' di soldi con lo spaccio All'insaputa mia, di nascosto Hanno messo su questo negozio Hanno messo 4, 5, 6, 7 auto di lusso E fanno credere a tutti che loro fanno i soldi così Ma sappiamo tutti che non è vero Perché la loro fonte di guadagno principale è ovviamente lo spaccio La vendita di armi Tutte quelle cose là che si fanno nel crimine, no? E nulla ragazzi Io sono pronto ad attaccarlo Col doggera a mettone Pronto ad inserirsi là dentro Che dite ragazzi? Ora lì non si è ancora caricato Però c'è la concessionaria esclusiva Vediamo se se ne sono accorti Io lampeggio, eh Penso che avete capito che vi sto attaccando 3, 2, 1 Iniziamo a sfondare Vai, 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 vai Prendiamo riparo, prendiamo riparo, prendiamo riparo Ok Perfetto ragazzi Carica, carica, carica Fate attenzione, fate attenzione Perfetto A posto ragazzi Qua tutti morti Eh questi qua ovviamente non escono ragazzi Perché è blindato, vedete? È tutto blindato Venite Venite se avete il coraggio Venite Venite con me, venite con me Vi accerchiamo tanto Siamo qua, vi accerchiamo Venite se avete il coraggio Venite Avete paura di uscire Avete paura di uscire Perfetto ragazzi Vediamo un attimo se ci possiamo fare il giro Ci provo io, ci provo io, ci provo io Ok Eccoli Ok, perfetto ragazzi Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' Non si sono accorti ragazzi Siamo col silenziatore Vai, vai, vai di qua, vai di qua, vai di qua Perfetto Uno, due Due fuori, due fuori fatti Eccoli qua Uno Mi devo spostare qua ragazzi Uno, due Ok Abbassati, 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 abbassati Ce ne sono altri, ce ne sono altri Dove? Perfetto, preso Vediamo sopra Vediamo sopra, dovrebbe essere tutto libero Non abbiamo subito neanche un danno finora No, è blindato proprio qua ragazzi Attento, attento Eh, che volete fare? Sono venuto per voi Uno, due Preso Mo' tocca pure a voi Mannaggia ragazzi, blindato, blindato Uno, due Cavolo Preso Nasconditi È caduto Non so se è morto Andiamo subito a vedere Andiamo subito a vedere Dovrebbe essere morto Eccolo Uno Cavolo Ragazzi Perfetto 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 Ok, perfetto ragazzi Ci siamo Qua abbiamo tutte le auto Come vedete Prima che arriva la polizia Ok, perfetto ragazzi Finora la polizia non sa niente Quindi iniziamo a nasconderci queste macchine So già dove Quindi sempre sopra Guardate questa BMW X7 Ragazzi Tutta verde militare Ok Bella questa Bella Vai, 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 vai Li mettiamo sempre qua sopra Sempre qua sopra Piano, piano, piano Mettiamoli qua Ok Perfetto Le parcheggiamo tutte qua ragazzi Così siamo sicuri che sono al sicuro Perfetto ragazzi Eccomi Passiamo alle auto esclusive Guardate qua Mercedes MG GT Ferrari SF90 Porsche 918 McLaren Senna Partiamo spedula La Mercedes ragazzi Abbiamo fatto una strage Guardate poi Che Mercedes Madò Dai Prima che arriva la polizia Prima che arriva la polizia ragazzi Qua c'è un po' di casino Madò Mamma mia Che macchinone Ragazzi Che macchinone Queste qua me le tengo eh Non me le vendo Era giusto per darti una lezione Non mi servono i soldi Mi dovranno vedere girare con le loro auto Capito? E quello è il bello Mi verranno a girare con le loro auto Quando verranno a sapere che le ho rubate Poi preparatevi ragazzi Visto che ci stiamo avvicinando comunque Alla stagione invernale Riprenderanno pure i boss Quindi a voglia dei boss Che metteremo Qualcuno ci deve fare guerra Dobbiamo pure perdere qualcuno Di importante per noi Prima che arriva la polizia Passiamo alla FS La Sì SF90 Dai dai E vedete Exclusive L'abbiamo fatti fuori tutti Sono belle macchine ragazzi Sono belle macchine queste Uh Vai Madò Quanto è potente Vai 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 Prima che arriva la polizia ragazzi Perché qua siamo comunque Non siamo al sicuro Qualcuno si potrebbe insospettire Finora non hanno sentito niente Là dentro Perché avete visto Erano tutti i vetri Antiproiettili Insonorizzati Quindi qualsiasi sparo Non si è sentito Poi soprattutto Neco il silenziatore Uddio Vai 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 Che ferrarone ragazzi Che ferrarone Dopo vi faccio vedere Quando ce ne andiamo tutti Con queste macchine Perfetto ragazzi Adesso passiamo alla 918 E poi le altre le faccio Poi riportare da loro Dai così li vediamo arrivare La 918 Sì Uddio Che sound Mi sto schiacciando di continuo Vai 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 scavalta in marcia a piede Questa è una bella macchina ragazzi Questa si Ok ma li facciamo venire Pure all'oro ragazzi Ok ragazzi Mi pare che qualcuno Eccolo là Stia arrivando Perfetto Dovrebbe farsi il giro di là E che Che tipo di macchina è Che Audi Comunque Dai Aspettiamo che arriva Perfetto ragazzi Ma che Audi Ma No ok Mi dissocio Greta Thunberg Questa è bella veloce ragazzi Madonna mia Perfetto Lave la pennele alta Eeeh Questa è una ipercarra Tutti gli effetti Uai come la freni Mamma mia Mamma mia Ragazzi Che bolide Ok Mettiamolo qua E andiamo Perfetto ragazzi BMW M8 Uai come la pennele alta Un po' Uai come la pennele alta Sta macchina Ok Passiamo alle altre Perfetto ragazzi Toyota GT86 Guardate qua Che figata Questa Mamma mia Che aggressività Levati Uuuuuh E questa come fai a venderla Me la Ce la teniamo Uai ragazzi Ok Ok questa qua la mettiamo qua ragazzi Adesso faccio un piccolo taglio Le faccio finire tutte quante qua E poi ce ne andiamo tutti quanti insieme Perfetto ragazzi Eccoci qua Ho radunato diversi families Ognuno avrà la sua macchina E quindi Vediamo un po' quello che succede Quindi facciamogli andare tutti quanti Avanti Perfetto ragazzi Se ne stanno andando Vai facciamoli passare Devo arrivare tutti quanti a grove Con le macchine dei vagos Ragazzi Madre Che macello ragazzi Che stiamo combinando Guarda qua Guarda qua la Ferrari Come corre Uuuuh Oddio Facciamogli passare Vai Madonna Ragazzi Che Che abbiamo combinato Che abbiamo combinato In questo video Che abbiamo combinato Vai Andate Guarda la Porsche Mercedezza Già Stavanti Mamma mia aiii pazzo mo ci vedranno anche ballas ok ragazzi noi ce ne possiamo andare missione computa altre macchine sono pure già state conservate qua nei garage di grove perchè non c'erano solo queste c'era anche un audi rs7 nulla ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video bello